Se dovessimo individuare il punto di partenza della nostra letteratura, della letteratura italiana, sicuramente potremmo individuarlo nel Cantico delle Creature, nelle Laudes Creaturarum, di Francesco d'Assisi, che morì nell'anno 1226. È una nozione piuttosto diffusa, non sarebbe stata una domanda difficile. Se invece volessimo individuare la prima figura femminile, la prima poetessa della letteratura italiana, dovremmo citare un nome ben poco conosciuto, poco noto, il nome di Compiuta Donzella. Nel video che vi presento quest'oggi non ragioneremo tanto sull'identità di questa persona, dico soltanto che sono state fatte almeno tre ipotesi. Alcuni sostengono che Compiuta Donzella fosse il suo vero nome, del resto Compiuta è un nome di battesimo che a Firenze è attestato nel Medioevo. Altri invece pensano che sia una sorta di nome d'arte, o forse meglio di segnal, come si diceva all'epoca, di nome fittizio che una poetessa si diede. L'espressione Compiuta Donzella letteralmente significa proprio fanciulla perfetta, quindi forse potrebbe essere un soprannome. Terza ed ultima ipotesi, secondo altri invece non è mai esistita una donna di questo nome. È un nome d'arte, è quasi un gioco letterario, di un poeta, di un uomo, che finse di essere una poetessa. Non avremo probabilmente mai la certezza di quale di queste tre ipotesi sia quella più corretta. Crediamo all'esistenza di questa donna, Compiuta Donzella, e leggiamo uno dei tre sonetti che ci sono giunti di lei, ipotizzando che sia vissuta verso la seconda metà del Duecento in Italia, forse a Firenze. Leggiamo innanzitutto una prima volta il sonetto, che dice così. Ha la stagion che il mondo, foglia e fiora, accresce gioia a tutti i finamanti. Vanno insieme agli giardini all'ora che gli auscelletti fanno dolzi canti. La franca gente tutta si inamora, e di servir ciascun traggesinanti, ed ogni damigella in gioia dimora, e me n'abondan marrimenti e pianti. Calo mio padre, ma messa in errore, e tenemi sovente in forte doglia. Donar mi vole a mia forza, Signore, ed io di ciò non ho disio né voglia, e in gran tormento vivo a tutte l'ore, però non mi rallegra, fior né foglia. Dicevamo che di questa scrittrice, di questa poetessa, sono giunti a noi soltanto tre testi, tre sonetti, questo è il primo, e presenta uno schema di rime molto semplice, che vi ho già segnato a video. Abbiamo per tutta la lunghezza del testo lo schema di rime alternate. Un sonetto, strutturato dunque in quattro strofe, due quartini e due terzine, che ora vado a riproporvi in seconda lettura, lavorando un po' sulla parafrasi, sull'analisi e sul commento del testo. Partiamo innanzitutto dalla prima delle due quartine. Se dovessimo individuare un tratto comune di questi quattro versi, potremmo dire che sono quattro versi estremamente positivi. È una scena molto bella, è una scena primaverile nella quale si parla d'amore. Vediamo la parafrasi. A la stagione che il mondo foglia e fiora. Cioè letteralmente, nella stagione, durante la stagione e della primavera, che il mondo foglia e fiora. Nel quale il mondo, la natura, è letteralmente piena di foglie e di fiori. Cioè nel momento in cui esplode la primavera, possiamo immaginare di essere verso marzo-aprile, che cosa accade? Accresce gioia a tutti i finamanti. Tutti gli innamorati cortesi, fini dice il testo, sono pieni di gioia. La loro felicità aumenta giorno per giorno. E che cosa fanno? Versi 3 e 4. Vanno insieme agli giardini all'ora che gli uccelletti fanno dolci canti. Ecco la parte più descrittiva di questa bella primavera. Questi finamanti si recano insieme agli giardini, nei giardini, siamo all'aperto, all'ora che, quando, gli uccellini, gli auscelletti, fanno i loro dolci canti, le loro bellissime melodie. Primavera, una bella giornata, tutti si innamorano, il mondo è pieno di fiori e di foglie, e anche gli uccellini stanno cantando. Una scena quasi idilliaca, paradisiaca, neanche un dettaglio negativo. Vediamo cosa accade nella seconda delle due quartine, che dice così. Nei primi tre dei quattro versi che vi ho appena riletto, gli elementi continuano ad essere completamente positivi. Vediamo come. La franca gente tutta si innamora. Tutte le persone più nobili, per bene, cortesi, si innamorano. E che cosa fanno? E di servir ciascun traggessinanti. Letteralmente ed ognuno di loro si fa avanti per servire. Poi vedremo che cosa significa questo verbo, servire. Ed ogni damigella in gioia dimora. E ogni fanciulla e ogni ragazza è piena di gioia, di felicità, è entusiasta di quello che sta capitando in queste ore. Notate un elemento a video. Ho evidenziato sei o sette vocaboli, ne leggo alcuni. Gioia, finamanti, franca gente, si innamora, servire, gioia, con il colore azzurro. Per quale motivo? Perché tutto il lessico che vi ho messo in evidenza con questo colore fa riferimento a dei termini, mi verrebbe da dire tecnici, tipici, di un certo tipo di poesia che era ben nota nell'Italia del duecento. E la lirica cortese provenzale, la lirica francese in lingua d'oc. Lirica nella quale spesso si parla di amore, di innamoramento e di finamanti, come si dice a riga 2. Il finamore, l'amore perfetto, nobile, cortese. Il servir, che abbiamo trovato a riga 6, è un rimando al cosiddetto servizium amoris, concetto centrale nella lirica di quest'epoca. Cioè il servizio d'amore. L'innamorato è come un servus, in latino, uno schiavo, un servo, della persona di cui si sta innamorando. E dunque si mette letteralmente al suo servizio, farebbe qualunque cosa per lui o per lei. Come vedete dunque in questi primi sette versi torna il lessico di una poesia che andava molto di moda nell'epoca, la lirica cortese provenzale. Dunque, compiuta donzella, sembra essere perfettamente al corrente di questo tipo di poesie, e crea una scena molto bella di innamoramento primaverile e giovanile. Però attenzione bene a quello che accade a partire dal verso 8. Notate che siamo arrivati a metà del sonetto, sette versi sono già stati letti, sette no. E da qui ripartiamo proprio col verso 8, che dice così. Attenzione bene a quella e iniziale, qui la congiunzione non significa e, significa invece, ma, però, indica una contrapposizione. E la poetessa comincia a parlare di se stessa, dice e me. Nel mio caso invece che cosa accade? Ci sono in abbondanza, abbondano, marrimenti e pianti, afflizioni, cose negative, cose che mi fanno piangere. Lei è l'unica persona che sta vivendo una condizione di negatività e impredda la disperazione mentre tutti gli altri sono felici e innamorati. Probabilmente le due terzine che ora commenteremo ci spiegheranno per quale motivo lei sia in questa abbondanza di marrimenti e pianti. Notate tra l'altro come cambi il lessico. Ho evidenziato con il viola tutti i termini negativi che ora incontreremo, marrimenti, pianti, errore, forte d'oglia, gran tormento. La poesia è come capovolta rispetto a prima nel tono. Vediamo ora la prima delle due terzine, da riga 9 a riga 11. Calò mio padre, ma messa in errore, e tenemi sovente in forte d'oglia, donarmi vole a mia forza, signore. Quel ca, termine tipico dell'epoca, anche la sua grafia, significa perché. Ecco la spiegazione che cercavamo un istante fa. Calò mio padre, perché mio padre, dice l'io lirico, la poetessa, ma messa in errore. Mi ha messa in una condizione di dolore, di sofferenza, quasi di prigionia, e tenemi sovente in forte d'oglia. E mi tiene ormai in una condizione continua di forte sofferenza. D'oglia vuol proprio dire dolore, patimento. Perché? Perché verso 11, donarmi a mia forza, signore. Alla lettera. Perché mio padre vuole donarmi a mia forza, contro la mia volontà, contro i miei desideri, a un padrone, a un nuovo signore, sarà evidentemente un fidanzato o un marito. Vediamo ora come prosegue il ragionamento nell'ultima delle due terzine, che chiude la poesia. Ed io, dice l'io lirico, al verso 12, di ciò, cioè di un marito, di un uomo, di un compagno, non scelto da me, non ho disio né voglia, non ho né desiderio né volontà, e in gran tormento vivo a tutte l'ore. E vivo ormai in continuazione, in ogni istante della mia vita, a tutte l'ore, in una situazione di gran tormento, di grande sofferenza morale interiore. E poi il verso 14, che dice, però, che significa perciò, dunque, quindi, una conclusione, non mi rallegra fior né foglia. Perciò non riesco ad essere rallegrata, resa felice, da questi bellissimi fiori e da queste foglie verdi che mi circondano. Però non mi rallegra fior né foglia. Ora un paio di considerazioni di portata più generale sulla forma e sul contenuto di questo testo che abbiamo appena analizzato, riga per riga. Credo che un elemento vada subito messo in evidenza. C'è una sorta di struttura simmetrica generale del testo. Lo si nota da due elementi, uno più ampio e uno più ridotto. Uno l'abbiamo già messo in evidenza prima, come cambi il lessico dalla prima alla seconda metà del testo. Osservate ad esempio, da riga 2 fino a riga 7, quanti termini positivi. Gioia, finamanti, franca gente, si innamora, servir in gioia. Invece tutto cambia da riga 8 fino a riga 13. Ad esempio i termini negativi come marrimenti, pianti, errore, forte doglia, gran tormento. La negatività la fa da padrona. E ora una seconda osservazione più specifica. Dimenticate per un istante i versi che vanno dal 2 fino al 13 e concentratevi soltanto sull'incipit, sul verso iniziale, il verso 1, e sull'explicit, il verso conclusivo, riga 14. Osservate i quattro termini che vi ho evidenziato. Foglia e fiora, riga 1. Fior ne foglia, riga 14. È un esempio di quella figura retorica che si chiama chiasmo. A, B, B, A. La disposizione incrociata di quattro elementi lessicali. Il primo e il quarto si corrispondono, il secondo e il terzo si corrispondono fra di loro. Foglia, fiora, fior, foglia. È come una parentesi lessicale che abbraccia l'intero testo dall'inizio alla fine. Dunque, dal punto di vista della forma, e anche dal punto di vista del contenuto, una grande attenzione, una grande raffinatezza, una grande cura per i dettagli, che ci permette di dire che, compiuta donzella, chiunque ella sia stata, uomo, donna, segnal, le varie ipotesi che abbiamo fatto prima, non importa. È stata sicuramente un'autrice di livello importante, che ben conosceva la letteratura della sua epoca e che ci ha regalato, purtroppo, pochissimi testi di buonissimo livello, come questo sonetto che abbiamo commentato insieme quest'oggi alla stagion che il mondo foglia e fiora, che fra un istante vi rileggerò come conclusione. Prima di concludere una raccomandazione, una cortesia per utilizzare un termine dell'epoca. Prima di andare via, se il video vi è stato utile e vi è piaciuto, lasciate un like. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi a questo mio canale YouTube e, se potete, aiutate la sua crescita con il passaparola oppure abbonandovi al canale o lasciando un super grazie sotto questo o un altro dei miei video. E vi saluto e concludo rileggendovi il testo di questo bel sonetto di compiuta donzella, questa autrice misteriosa degli albori della letteratura italiana. A la stagion che il mondo foglia e fiora, accresce gioia a tutti i finamanti, vanno insieme agli giardini allora che gli auscelletti fanno dolzi canti. La franca gente tutta si inamora, e di servir ciascun traggesi inanti, ed ogni damigella in gioia dimora, e me n'abbondan con marrimenti e pianti. Calo mio padre, ma messa in errore, e tenimi sovente in forte doglia. Donar mi vole a mia forza, signore, ed io di ciò non ho disio né voglia, e in gran tormento vivo a tutte l'ore, però non mi rallegra fior né foglia.